Più che politici sembra contare la burocrazia. Ne sa qualcosa Fabio Sinatti della Unione Polisportiva Policiano che alla vigilia dell'ultimo evento sportivo organizzato per domenica scorsa in una nota aveva attaccato la burocrazia del comune di Arezzo, quella burocrazia che gli aveva negato sia il patrocinio dell'evento che 50 transenne che servivano per la manifestazione e che erano state richieste da tempo. Questa è stata una cosa abbastanza incresciosa, mi dispiace anche per l'assessore allo sport che sicuramente ce l'ha messa tutta e cercherà di mettercela sempre tutta nel fare le iniziative per porre anche novità, per dare vitalità anche alla nostra città. Però quando noi troviamo un muro diretto per motivi burocratici, voi pensate che non sono state portate 50 transenne, non portate fra l'altro, noi andavamo a prenderle e le riportavamo lì, 50 transenne, ci è stato risposto, abbiamo fatto la domanda tardi, 15 giorni prima, tardi, anche se poi noi l'avevamo fatta invece in data 30 dicembre in cui l'amministrazione era il corrente di tutte le nostre iniziative che mi hanno fatto, io mi sono operato ma questo non è una scusante ovviamente, non lo voglio mettere così e quindi non ho presentato quello. Ma al di là di tutto mi chiedono un preventivo, un bilancio, un bilancio per avere 50 transenne, devo fare un bilancio e devo dire anche un'altra cosa molto particolare, molto diciamo anche non gradevole, che adesso per poter fare una qualsiasi domanda, anche la più banale, la più semplice, bisogna essere diventati degli ingegneri, dei tecnici, dei professori e quant'altro. Persone che vivono normalmente nell'ambiente dello sport non riescono a realizzare, quindi diventa veramente impossibile poter fare qualsiasi cosa e questo è increscioso, quando poi realtà come la nostra ma come tante altre che nella nostra città si adopano, fanno volontariato eccetera, cercano di portare nella nostra città un po' di movimento, un po' di vitalità, un po' di prestigio direi così. Noi domenica scorsa abbiamo portato oltre 600 atleti da tutta la Toscana, alcuni sono addirittura, sono venuti nella Corsica, sono rimasti qui a dormire, hanno mangiato, quindi hanno fatto anche un minimo di presenza anche economica, chiamiamola così fra virgolette, anche se sarà stato poco, però hanno dato l'immagine giusta della città di Arezzo, in questo caso qui, menomata da una mancanza di qualche piccola deficienza che c'è stata per quanto riguarda le transenne, che poi siamo riusciti a sopperire una qua una là da qualche privato per poter tamponare le cose, però effettivamente è una cosa incresciosa.